Hi guys, bentrovati a tutti. Questo video va per rinnovare l'invito a tutti per la fiera di Piacenza il 19 e il 20 marzo, questo fine settimana. Noi siamo in procinto di partire, giovedì mattina partiremo per andare a montare lo stand e tra l'altro per chi vorrà seguire farò una sottospecie di vlog sulle stories Instagram in cui vi farò vedere quali sono i retroscena di una fiera, nel senso solitamente chiunque arriva in fiera trova uno stand e non si rende conto di cosa c'è dietro per una azienda soprattutto piccola, minuscola come la nostra, quindi vi farò vedere dal mercoledì sera fino alla domenica tutto quello che c'è dietro, tutti i passaggi, tutta la preparazione, tutta la logistica che c'è dietro sia da parte nostra sia da parte degli organizzatori e di chi lavora all'interno insomma dei padiglioni. È una piccolissima iniziativa che farò sulle stories Instagram quindi se a qualcuno interessa seguiteci anche lì. Qui sotto nel primo commento fissato vi lascerò lo sconto riduzione che voi potrete scaricare per entrare pagando un costo ridotto chiunque potrà farlo senza limiti e ragazzi che dire noi abbiamo rinnovato ancora lo stand perché non ci bastava quello della scorsa edizione quindi l'abbiamo ridevastato tutto abbiamo della roba quest'anno che è da fuori di testa e non ho voluto pubblicare neanche mezzo spoiler ma abbiamo delle cose da fuori di testa completamente fuori di testa da quanta roba portiamo dalla qualità della roba che portiamo in questa edizione perché all'inizio non volevamo neanche farla ma poi abbiamo detto se si fa o si fa per bene o non si fa per niente quindi abbiamo ricambiato lo stand e cercato di portare articoli molto molto particolari che sono sicuro piaceranno. Quindi ragazzi l'invito è rinnovato noi siamo lì passate a trovarci allo stand ripeto sconto riduzione lo trovate nei commenti il link per scaricarlo senza nessun limite ragazzi ci vediamo in fiera 19 e 20 marzo piacenza expo in concomitanza con armi a bagagli quindi ricordatevi che se venite non c'è solo l'airsoft troverete 400 espositori di armi storiche tutte le altre robe che hanno quindi se fate un giro non lo fate solo per l'airsoft ma c'è anche tantissime altre cose interessanti secondo me da vedere oltre che il classico padiglione dell'airsoft e tutto il resto quindi ragazzi ci vediamo yo